In questo video parliamo di opzioni vanilla. Molti di voi sapranno che io sono nato con, cioè ho iniziato a fare opzioni proprio con le opzioni vanilla sul forex offerte da AvaTrade con la piattaforma AvaOption. Più in là ho approfondito i miei studi e mi sono spostato anche sulle opzioni classiche americane che troviamo sui mercati reali, indici reali, future e quant'altro. Siccome questo conto ce l'ho ancora e mi diverto ogni tanto a sperimentare alcune strategie, ne ho trovata una che può sembrare davvero simpatica e ve ne voglio parlare. Vi ricordo sempre che io non sono un formatore ma sono un divulgatore più che altro, però ho contatti con formatori che hanno società proprio di formazione e quindi posso indicarvi la giusta strada. Se volete conoscere in modo approfondito questo strumento. Vi ricordo anche il nostro sito guadagnaautomatici.it dove potete trovare un corso completamente gratuito. completamente gratis, nessuno vi chiederà niente, neanche un'email, proprio sulle opzioni vanilla. Naturalmente è limitato, nel senso non vado proprio nelle viscere delle opzioni, però tutto sommato è un buon corso fatto in videopillole che potete vedere tranquillamente e quindi iniziare a capire grosso modo come funzionano le opzioni. La strategia che voglio mostrarvi è questa qui. Questa adesso ce l'ho, è reale, da diverso tempo la sto facendo lavorare più volte e mi sta dando delle soddisfazioni davvero carine. A vederlo può sembrare un classico backspread come mostro anche nel videocorso, però in questo caso non è un classico backspread. E adesso andiamo sul simulatore e voglio farvi capire le potenzialità di questa strategia. Eccoci qua sul nostro simulatore. Naturalmente questa strategia può essere fatta anche sui mercati reali, non è che è obbligatorio farla sul forex opzioni vanilla, però io la sto sperimentando lì giusto per divertirmi un po'. E anche perché posso farla maturare nel tempo con meno problemi rispetto a lavorare sull'euro dollaro e sul future. E vi spiego subito perché. Allora come abbiamo detto dal payoff può sembrare un classico backspread. Di solito il backspread si fa con un'opzione venduta, quindi in questo caso come se fosse una call venduta che ti dà un credito tale da poter comprare altre due call più in basso in modo che si forma questa vasca. Esce una strategia a credito, nel senso che con quello che incassi vendendo la call tu compri altri due call e stai coperto. Quindi è una strategia bidirezionale. Anche se questo payoff è molto simile al backspread, questo non è un backspread e te lo mostro subito. Ho preferito, ti dico subito, simularlo qui perché questo è un ottimo simulatore, questo è il miglior calcolatore penso al mondo che ci sia per opzioni, almeno per me, per quelli che ho visto io in giro. Magari ce ne saranno altre, non me ne volete. Comunque ho riportato la stessa strategia con gli stessi strike qua e gli stessi prezzi, proprio per simularla, per farvi capire al meglio le potenzialità di questa strategia. Iniziamo col dire, quando lavorate su AvaOption e comprate o vendete il sottostante, cioè non parlo di opzioni, andate a vendere direttamente in questo caso Euro-Dollaro, se lo comprate avete uno swap negativo, cioè ogni giorno che passa ti sarà debitato un interesse, quindi è come se perderai una piccola parte di soldini ogni giorno, qualche punto ogni giorno, anche se il prezzo sta fermo, solo dal passare del tempo. Al contrario, se lo vendete non è positivo, ma è zero, cioè ne perdete ne guadagnate, cioè non avete nessun costo anche se lasciate la vendita per mesi e mesi. Perché ho preferito farla là? Perché lavorando sul future, sul future ho una scadenza che là non ho, quando parliamo solo di vendita del sottostante. Cioè là posso mettere, posso fare la vendita e lasciarla anche per 2, 3, 4 anni, mentre sul future Euro-Dollaro arriverà un punto che il future scade e quindi dovrò rivenderlo. Comunque, iniziamola a vedere, che cosa ho fatto? Allora, la prima cosa, io ho venduto Euro-Dollaro, adesso il prezzo si è spostato, comunque all'inizio era centrato, e questo è il payoff di una vendita netta, quindi si presenta così, se il prezzo scende guadagno, se il prezzo sale perdo, più sale più perdo, più scendo più guadagno. E questo è semplicissimo, prima era qui, però adesso diciamo che sta perdendo, parliamo del sottostante. Un po' che ho fatto, da questo lato ho venduto una put quasi TM, ed ecco che si trasforma in una call sintetica, cioè il sottostante più una put venduta diventa una call venduta praticamente, quindi si dice call sintetica. Con quello che ho incassato, quindi ho cercato di restare a credito, ho comprato due call che mi vadano a coprire quest'altro lato. Quindi comprando le due call, ecco che il payoff si trasforma così, con una scadenza di circa un mese. Ora che succede? Se il prezzo scende, mettiamo che fra un mese fa più o meno l'1% e arriva più o meno qui, alla scadenza mi troverò il massimo profitto, che naturalmente dipenderà dal size che ho utilizzato, se è venduto 10.000, 20.000, 50.000, 100.000, cambia, perché là sappiamo che si lavora anche in micro lotti, insomma si parte da 10.000 come se fosse uno 0.10. Quindi a seconda della size, diciamo, posso prendere il massimo profitto se il prezzo scende. Se nel frattempo il prezzo sale tanto e la volatilità mi viene anche a favore, questa Etnaun si alza e quindi posso avere un guadagno anche se il prezzo prende un rialzo molto alto. Quindi il prezzo inizia a salire, come vedete, a un certo punto inizio anche a guadagnare. Però tu mi dirai, vabbè, però se poi scade qui in mezzo perdi. Quindi, attenzione, perché ti faccio vedere una cosa. Se noi togliamo euro-dollaro, cioè il sottostante venduto, il sottostante classico, non parliamo di opzioni. Guarda come si trasforma la figura. Che cosa significa? Che se alla scadenza il prezzo si troverà qui, io non perdo. Ossia, perdo su euro-dollaro, ma io euro-dollaro non lo chiudo. Però intanto ho guadagnato qualcosa. Perché come vedi, la linea sta sopra lo zero. Quindi ho guadagnato dei punti che vado a detrarre dalla perdita che c'è in quel momento euro-dollaro. Diciamo che fra un mese scade qui. Quindi, cosa succede qui? Vado a incassare questo premio, che mi resta nelle tasche, e ricostruisco una strategia. Sempre così. Cioè, faccio un'altra vendita e un'altra due con l'inacquisto. Come vedete, se il prezzo arriva qui, che è zero, vediamo proprio su sta linea verde, diciamo qui, che qua dice che sta in perdita, quindi un 1%. Cioè, se tra un mese si trova l'1%, quindi dove sta la linea verde, tu ti troverai con un guadagno. Perché è guadagnato. Se resta fermo, resta proprio fermo qui, immobile, comunque, come vedi, il prezzo adesso è qui, comunque incasserai un profitto. Se il prezzo sale, incasserai ancora di più. Quindi, che cosa si può fare? Ogni mese, tu fai questa vendita e questi acquisti, e comunque incasserai qualcosina, anche se il prezzo resta fermo. Se il prezzo scende, puoi decidere di chiudere tutto e ricominci da capo. Se il prezzo sale, puoi fare lo stesso. Se il prezzo, mentre resta sempre più o meno, per i primi tempi, in quest'area, tu andrai ogni volta ad incassare questo profitto e costruirai un'altra strategia sopra, quindi fare un'altra vendita e altri due acquisti. Se il prezzo magari sale un pochettino, puoi fare la mediazione. Che significa? Cioè, tu stai qui con una vendita, però mettiamo che il prezzo inizia ad arrivare qua, più o meno, puoi fare un'altra vendita di euro-dollaro e fai la stessa cosa con il doppio delle opzioni. Diciamo che è come se inizi a fare una mediazione del prezzo. Cioè, se adesso acquista in perdita, ma io vado a rivendere, significherebbe che vado a mediare il prezzo, quindi avrò un punto di carico più vicino. Il mio breakeven sarà più vicino, una sorta come si fa nella martingala, però nella martingala si va a raddoppiare, noi usiamo la stessa size, quindi mediamo, mediamo quindi il prezzo, andiamo a fare altre vendite e qualora magari, naturalmente venderemo il doppio e compreremo il doppio, perché ora abbiamo due sottostanti, magari poi il prezzo fa un ritracciamento, insomma prende la discesa e andrò a guadagnare ancora di più, perché dopo il mio profitto sarà maggiore, perché io avrò due sottostanti, due opzioni e quattro di queste. Questo lo puoi fare anche per due, tre, quattro volte di seguito a seconda della size che ho utilizzato all'inizio e dal capitale che hai. Però questo è un buon modo per fare una sorta di mediazione, ma non con rischio illimitato come si fa nel Forex classico, dove agende media, media, quindi nel caso di questo vende, il prezzo sale, vende, il prezzo sale, vende, il prezzo sale, vende, fino ad arrivare a un punto che poi non hai più soldi, perché tu ogni mese un poco lo prendi, come ti ho detto, lo prendi sempre, cioè qua non c'è via di scampo, se scende prendi qualcosa, se sale prendi qualcosa, se resta fermo prendi qualcosa. quindi è come se tu vai a mediare, diciamo il prezzo, anche se resta qui, tu recuperi dei punti, è come se tornasse sullo zero, perché una parte ogni mese la vai ad incassare. Quindi una parte la prendi, un po' medi, quindi al primo movimento forte, o a ribasso, o a rialzo, tu ti troverai con il doppio, con il triplo magari, delle opzioni e del sottostante, potrai fare un bel profitto. Diciamo, io lo sto facendo già da due mesi, e diciamo, mi sta portando delle soddisfazioni. È un conto piccolino, io ci sono migliaia di euro, però giusto per farlo lavorare, di tanto in tanto, sto usando questa strategia, e volevo condividerla con voi. Quindi vi ricordo un'altra volta, sul mio sito, guadagnaautomatici.it, nella sezione corsi, c'è un corso su opzioni vanilla, completamente gratuito, fatto in videopillole, video da dieci minuti. Guardate il corso, aprite un conto demo, con AvaTrade, con l'AvaOption, iniziate ad esercitarvi, magari riuscite a creare nuove strategie, e poi se volete, vi aprite anche un conto reale, iniziare a lavorare, anche piccolino, giusto per iniziare a fare una rendita. una piccola rendita, o grande che sia, però non è male, per iniziare a fare trading, e anche per iniziare a capire, le potenzialità delle opzioni. Come sempre, non mi voglio dilungare troppo, iscriviti al canale se vuoi, vienici a trovare sul sito Guadagni Automatici, se vuoi imparare le opzioni, contattami che ti metto a disposizione, la formazione giusta, e in più, puoi venirci a trovare, sul nostro canale Telegram, per richiedere tutte le informazioni che vuoi. Alla prossima!